Questa anno non ho più fatto le dolomiti, ho fatto come montagne, come grappa, come... Diverso insomma stavolta, ho fatto diverso quest'anno. È una tradizione che continua da anni nel tempo e finché ho le forze di poi farlo, continuo a farlo. Tanti avori di Buon Natale e felici anno a tutti i telespettatori.